Consiglio Comunale a Licola, questa mattina l'amministrazione ha convocato la seduta presso la sede dell'Aeronautica Militare. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto di riqualificazione delle strade NATO, un'opera che risale a precedenti amministrazioni e che oggi vede uno degli ultimi step prima di partire. Soddisfazione espressa dal sindaco, dalla sua maggioranza, nonché dal centro-destra. Ci tenevo molto a questo evento, ci tenevo soprattutto non per discutere di problemi come ho detto nella mia relazione introduttiva, ma per dimostrare la risoluzione di un problema. Un progetto fermo dal 2011, iniziato con una delibera commissariale del 2014, che questa amministrazione nell'arco di 8-9 mesi ha portato a tempo. Oggi in fascia costiera, dove confermiamo che Giuliano è una sola, dove non c'è un centro e una periferia. e stiamo qui per dare una risposta concreta di un progetto di circa 10 milioni di euro. Un giornata storica, perché l'abbiamo detto nella passata amministrazione, e anche prima avevo chiesto alla passata amministrazione più vicina a me e non era mai andata avanti. Quindi sembra di sì, ma così prendere tempo, ma veramente mi fa molto molto piacere che questo Consiglio Comunale, inerente anche a una problematica del territorio, di opere pubbliche, venga fatta qui. Critiche nei confronti della parte di minoranza assente. Mi spiace che non tutti abbiano colto, parlo di una parte della minoranza in particolare, che invece di attaccare sui social in maniera sterile e di alzare polveroni inutili, poteva dare un grande sostegno a questa battaglia per la zona costiera, dove veramente maggioranza e opposizione uniti per il bene della città.